Si parlava la scorsa settimana dei 20 anni perduti, ecco io ho trovato una dichiarazione di Fini quando era segretario dell'MSI ancora a novembre 1993, quando si cominciava a parlare della discesa in campo del Cavaliere e lui diceva Berlusconi lasci perdere la politica e faccia l'imprenditore, avesse tenuto duro invece poi Berlusconi in un supermercato disse che come sindaco di Roma Frafini e Rutelli avrebbe scelto Rutelli e allora lui in cambio dello sdoganamento del nuovo partito che era diventato AN, si alleò col Cavaliere, Montanelli profetizzò, se Berlusconi vince la parola destra in Italia diventerà impronunciabile per almeno mezzo secolo per motivi di decenza, chissà che cosa sarebbe accaduto se Fini gli avesse dato retta 20 anni fa, se non avesse tradito per esempio il sostegno a mani pulite dicendo che c'era un uso politico della giustizia quando Berlusconi veniva indagato, che c'erano sentenze da tribunale speciale quando veniva condannato, se non avesse votato la legge sul falso in bilancio, sull'erogatore, la Cirami, la Cirielli, la Gaspari, la Salvarete 4, la Frattini sul conflitto di interessi, la Bossi Fini, la Fini Giovanardi, il condone di Lizio, due scudi fiscali, 12 condoni fiscali, il Lodo Schifani, il Lodo Alfano e il Porcellum. Se non fosse andato tre volte al governo con la Lega di Bossi che chiamava N Porcilaia fascista e avesse tenuto fede al giuramento che aveva fatto nel 1995, con Bossi non mi siederò al tavolo neppure per prenderci un caffè. Se nel 2004, quando il Cavaliere al Parlamento europeo diede del capo nazista a Schultz e Fini si vedeva proprio che voleva scomparire, tratteneva le smorfie con sforzi maxillo-facciali impressionanti, tentava addirittura di tirare fuori una sigaretta in piena aula, si fosse alzato lì su due piedi e avesse detto mi dissocio, anzi non lo conosco questo qua e l'indomani se ne fosse andato dal governo. Poi finalmente cominciò a capire, come riflessi un po' lenti, chi era il Cavaliere. Fu alla fine del 2007, lui se lo ricorda, il Cavaliere fondò il PDL sopra il predellino della Berlus Mobile e si dimenticò anche di avvertirlo e allora Fini lo ghiacciò dicendo Berlusconi ha le comiche finale, voglio che sia a tutti chiaro che non esiste alcuna possibilità che a Enne si sciolga e confluisca nel popolo della libertà, Berlusconi con me ha chiuso non pensi di recuperarmi, io al contrario di lui non cambio posizione, se vuole fare il Premier deve fare i conti con me che ho vent'anni di meno, mica crederà di essere eterno, lui a Palazzo Chigi non ci tornerà mai, per farlo ha bisogno del mio voto ma non l'avrà, mai ha distrutto la Casa delle Libertà e noi ora dovremmo bussare alla sua porta col cappello in mano e la cenere sul capo, non siamo postulanti e io non torno all'ovile, sono il Presidente di A.N. non una pecora, uno dice finalmente no e invece no, due mesi dopo Fini scioglieva l'Alleanza Nazionale per entrare nel PDL e riportava il Cavaliere a Palazzo Chigi, la comica finale, poi per carità fu coraggioso, l'abbiamo visto nel 2010, lasciò il PDL non solo per il no a Cosentino e alle cose che diceva ma per il no al bavaglio sulle intercettazioni, la prescrizione breve, al processo breve che non passarono grazie a lui ovviamente e fu praticamente espulso per aver detto legalità due volte in mezz'ora in quel famoso raduno, una parola assolutamente impronunciabile e fu grazie a lui se nel 2011 il Cavaliere perse la maggioranza e dovette svignarsela, altro che complotto delle banche tedesche, sappiamo bene anche il prezzo che ha pagato con i fucili puntati dei killer del Cavaliere che all'improvviso il giorno dopo scoprirono la casa di Monte Carlo oppure si inventarono addirittura una sua avventura con una prostituta, si dirà che la storia non si fa con i sei e che soprattutto bisogna pensare al futuro, benissimo, giusto, anche se dei vent'anni persi 17 pro quota sono anche i suoi, tre anni fa lanciando Futuro e Libertà a Mirabello Fini fece un bel discorso e tracciò un identikit della destra che non c'è, la destra moderna, la destra liberale, la destra montanelliana se vogliamo, meritocrazia, rigore, legalità, laicità contro le ingerenze del Vaticano, diritti civili dalle coppie di fatto alla fine vita, alla cittadinanza per gli immigrati regolari, le riforme sociali, il sostegno alle indagini dei magistrati anche sui mandanti occulti delle stragi. Che ne è oggi di quelle promesse? Ecco che erano piaciute a tanti italiani di destra che a sinistra non voteranno mai e che Berlusconi non lo vogliono più vedere. Ne è rimasto poco e infatti i sondaggi ne risentono, danno a future libertà percentuali da albumina. La destra che non c'è sembra continuare a non esserci, per carità, la classe dirigente di oggi è meglio di quella di prima, meglio di Gasparri, Fiorito, Polverini e La Boccetta sicuramente sono della Vedova, la Buongiorno, Raisi, Filippo Rossi, Granata, Flavia Perina, però c'è ancora per esempio Nino Strano, quello che mangiava la mortadella al Senato quando cadeva a Prodi e in Calabria si preferisce Bocchino ad Angela Napoli, famosa per la lotta all'Andrageta. Adesso poi c'è la scelta del centro che sembra contravvenire alle battaglie per il bipolarismo secco, o di qua o di là, o destra o sinistra, all'americana e Fini si ritrova in compagnia di banchieri, uomini della FIA, della Confindustria, in barba alle speranze di qualcuno che contava su una destra un po' più sociale e soprattutto va a braccetto con una marea di democristiani, Bacciapile di Comunione e Liberazione, Acli, Sant'Egidio, emissari del Vaticano come Riccardi e Buttiglione, dell'Opus Dei, c'è ancora Labinetti, pensate, gente che di laicità, di coppie di fatto e di fine vita non vuole nemmeno sentire parlare. È dura anche parlare di meritocrazia in una coalizione dove Casini, candida, cognata, marito della portavoce, ex fidanzato della figlia, nipote di Demita, sono i famosi ricongiungimenti familiari. Tre anni fa la nuova destra di Futuro e Libertà metteva nel suo nuovo pantheon, al posto di Mangano, polemicamente, Borsellino e chiedeva scusa a Montanelli sul futurista per non averlo capito a suo tempo. Ecco, chissà oggi Borsellino che cosa direbbe della scelta di appoggiare per esempio Raffaele Lombardo che era indagato per questioni di mafia in Sicilia e chissà cosa avrebbe detto Montanelli delle ingerenze vaticane che hanno spinto Monti e la sua coalizione ad andare su con il centro, perché Montanelli era per lo Stato liberale e non per lo Stato pontificio o per lo Stato montificio.